Ecco un altro giocatore che ha avuto degli alti e dei bassi, in questo caso giustificato anche dagli infortuni, non ha avuto una costanza nel poter essere schierato, ma all'occorrenza, nel momento del bisogno, nel momento topico del campionato, Edoardo Goldaniga è tornato in campo, ed è tornato in campo rendendosi utile, diventando uno dei giocatori che Ranieri, e soprattutto nei play-off, ha fatto ruotare, gli ha fatti ruotare per poter avere il massimo da ciascuno e far sentire tutti quanti dentro la squadra. Il giocatore esperto, Goldaniga, che poteva essere il perno della difesa, non lo ha fatto in questo torneo perché, ripeto, troppe volte infortunato, però alla fine anche il suo rendimento è stato utile alla causa, ha permesso di arrivare a centrare l'obiettivo. Voto per Goldaniga, considerate tutte le assenze e la prima parte di stagione non esaltante, voto 7. Grazie a tutti.